Potreste ricevere un segno che è indicativo di un vostro progresso spirituale, potreste ricevere un dono visibile, materiale, un anello con un sigillo, vi faccio un esempio, che indica il passaggio tra chi ve lo dona e voi di una potestà, di un compito, potreste ricevere un segno che indica invece il punto in cui siete in quel momento a livello spirituale di sviluppo e da lì in poi il cammino che dovete fare, però nel messaggio, nel dono compreso tutto. Le abilità invece sono capacità di fare. Rimane però sempre il problema della gestione. Come gestisci un'abilità? Se non hai un indirizzo chiaro a livello spirituale, filosofico, esistenziale, si può rivelare un grosso danno, perché può prendere il sopravvento e deviare la persona. Prima di iniziare la visione di questo video sono aperte le iscrizioni al nuovo seminario online condotto da Giorgio Rossi, la mappa dei mondi invisibili, domenica 22 gennaio, intera giornata. Per il programma e le prenotazioni rimandiamo al link sotto il video in info box o nel primo commento, oppure nel nostro shopping online www.cavuresoterica.it alla voce eventi e corsi online. Salve a tutti, oggi trattiamo in questo video un argomento che è stato ripetutamente segnalato attraverso la mail, attraverso esperienze delle persone, attraverso commenti vari, che è quello dei doni e delle abilità. Ne accennavo un parecchio tempo fa, ma di passata, oggi cerchiamo di approfondirlo. Tutte quelle che oggi sono considerate delle qualità particolari, nel senso che sembrano, ma non sono, usando un termine un po' sorpassato, paranormali, vanno invece inquadrate rigidamente nella natura. La chiarudienza, la matematica, la chiarosenzienza, eccetera, la capacità psicocinetica e quant'altro, sono tutte, diciamo doti naturali in realtà, cioè non sono dati metafisici o spirituali. Normalmente l'uomo antico sperimentava queste capacità come parte integrante del suo vivere, non era diciamo in uso considerarle particolari, perché già il fatto che fanno sempre riferimento a uno dei cinque sensi o alla mente, che sarebbe il sesto, ne indica la natura ordinaria, cioè fanno parte della natura sottile, non quella convenzionale, ma sempre della natura. Già una facoltà cosiddetta ESP sarebbe qualcosa di soprannaturale, cioè di non conforme alla natura. Questo può inverarsi nelle persone per una serie di motivi. Il Yoga Sutra Patanjali indica tre cause della manifestazione di quelli che sono chiamati le sidi, per esempio, ma quelli sono poteri di ordine extraumano, che non fanno parte della fiusis della natura, ma della metafisica. Purtuttavia la sua classificazione è valida anche sui livelli inferiori, cioè appunto naturali. Si nasce così per maturazione di un karma passato, queste cose possono essere il risultato del contatto con una divinità su cui si merita, si prega, è quella che è chiamata dignificazione, oppure possono essere il risultato di un addestramento, di un lungo lavoro specifico, come ad esempio in Oriente può essere un certo tipo di capacità di un fachiro. Ma queste diverse modalità di esperire il mondo sottile, ripeto, fanno parte della natura. Fanno parte della natura perché senza la base dei sensi non sarebbero possibili. Cioè la chiariudenza senza l'udito non esiste, la chiarovergenza senza la vista, anche del terzo occhio cosiddetto, non esiste. La telepatia senza una mente che funge da rice trasmittente non esiste. Quindi non sono quello che tecnicamente viene definito un dono, ma è più corretto definirle abilità o caratteri particolari. Molte persone che sperimentano questo tipo di abilità mi hanno scritto, dicono, a me fin da bambino mi succede così, così e così. Dopo un certo tramo, questa è una cosa molto comune, si è sviluppato in me questo tipo di attitudine e così via. Sì, accade, succede, ma ripeto, si tratta dello sblocco di energie che sono legate alla persona. Se si tratta di facoltà telepatiche, per esempio riguardo il suo corpo mentale, se si tratta di capacità sensitive in ordine, non so, all'energia, agli elementi o a certi contatti con i mondi sottili, parliamo di un corpo astrale, emozionale. Se si tratta di capacità, per esempio, terapeutiche, tipo la planoterapia, eccetera, fanno riferimento al corpo energetico, al corpo eterico. Quindi vanno molto ben inquadrate nella loro naturalezza da un punto di vista della struttura dell'uomo come dovrebbe essere profondamente, non come è oggi completamente sdralicato da tutto, dalla natura, dai suoi simili, dalla concezione spirituale del mondo e quant'altro. I doni sono altra cosa, i doni sono qualcosa di completo fin dall'inizio, cioè la differenza fondamentale tra un dono e un'abilità è che il dono fin dall'inizio è totale, completo, non è suscettibile di sviluppo. Come arriva si manifesta, non ci si può fare nulla, tra virgolette, non c'è niente da aggiungere e da togliere, in un certo senso è un dono gratuito, anche se non sempre così. Sottostai gli stessi principi che abbiamo elengato prima, ma il dono ha un fine. Altra differenza con l'abilità, l'abilità non ha un fine escatologico oppure un fine utilitaristico. Potreste ricevere un segno che è indicativo di un vostro progresso spirituale, potreste ricevere un dono visibile, materiale, un anello con un sigillo, vi faccio un esempio, che indica il passaggio tra chi ve lo dona e voi di una potestà, di un compito. Potreste ricevere un segno che indica invece il punto in cui siete in quel momento a livello spirituale di sviluppo e da lì in poi il cammino che dovete fare, però nel messaggio, nel dono ha compreso tutto. Le abilità invece sono capacità di fare. Nel tempo si è creata anche molta confusione. Vuoi per l'opposizione per esempio delle chiese ufficiali nei confronti delle persone che hanno ricevuto o che comunque detengono questo tipo di abilità, vuoi perché la loro provenienza non sempre è positiva. Questo è il punto dove c'è molto discrimine, c'è molto dibattito. Ovviamente se io vi dico che quel dono che voi avete ve l'ha dato il diavolo, voi no? Anche no, grazie, no? Ma in realtà per diavolo si intende qualcos'altro, qualche energia del mondo intermedio che attraverso di voi si vuole esprimere. Può essere positiva, negativa, neutra, ma che comunque ha un suo fine e quindi il suo regalo, il suo pacchetto col fiocco nasconde all'interno una volontà diversa da quella che sarebbe specifica della persona che lo riceve. Una famosa carità pelosa, come si dice nel dialetto. Altrimenti può trattarsi invece di una situazione che si appalesa nel momento in cui c'è un forte squilibrio, nel caso che dicevamo prima del trauma. Il trauma sblocca determinate strutture energetiche, l'energia fluisce in modo diverso, l'energia vitale, in modo differente dentro la persona e apre dei canali che prima erano chiusi. Rimane però sempre il problema della gestione. Come gestisci un'abilità? Se non hai un indirizzo chiaro a livello spirituale, filosofico, esistenziale, si può rivelare un grosso danno, perché può prendere il sopravvento e deviare la persona. Siamo pieni di profeti, di guru e quant'altro, quindi come si dice volgarmente si può andare anche via di testa con certi tipi di abilità. Il dono non ha questa struttura che danneggia, che può creare squilibrio. Il dono è un compito al massimo. Si può adempierlo, si può non adempierlo, la sua natura non cambia. Molte volte il dono è anche un brutto segno, perché è il segno di una crisi non personale, non della particolare natura di una persona, della sua personalità, del suo carattere, della sua evoluzione, della sua struttura animica, ma il dono può indicare che il campo di forza, per esempio, a cui questa persona si riferiva, ha avuto una crisi o è sul punto di estinguersi. È il caso degli egregori. Tantissimi egregori che sono non morti ma si sono ritirati, come si dice tecnicamente in arcano, alla fine di un ordine che sulla terra li rappresentava, possono eleggere una persona come loro rappresentanti. Non più nella forma e nella funzione che avevano precedentemente, che era appunto quella di una scuola, di un'istituzione iniziatica, quello che volete, direttamente, ma come sintesi dell'opera che quel particolare Gregore doveva compiere o che ha compiuto fino al limite massimo, oltre il quale non poteva sussistere, purtuttavia necessitando di una sua presenza visibile nel nostro mondo. Un po' come un'eredità spirituale, chiamiamola così. E quando avvengono queste crisi, o avviene per esempio la morte di un maestro estremamente importante, che non ha dei suoi successori qualificati nella linea ordinaria della successione, l'eggregore può scavalcare la situazione e concedere una segnatura particolare a una persona, che non necessariamente è quella che al momento in cui avviene la crisi ha le migliori carte da giocare, ha delle potenzialità, ma non l'ha magari neanche ancora espresso, lo deve esprimere, è ancora in itinere, come si dice. No, questo non ha importanza. quello che fa l'eggregore, poiché conosce la scia karmica, l'uomo antico che sta dietro quella persona, affida a quell'essere particolare la sua eredità. Ho conosciuto casi molto precisi di questo tipo di situazioni, dove magari per anni la persona che ha ricevuto questo dono, questa segnatura, non aveva più di tanto idea di quello che fosse il compito, non disponeva di strumenti di decrittazione, magari no, che gli permettessero di capire che cosa doveva fare di quell'ascito, di quel dono. Poi magari dopo anni questo è venuto fuori. Casi storici ce ne sono stati altrettanti. Lo stesso Crulei non aveva capito assolutamente nulla di che cosa implicasse avere ricevuto il mandato del libro della legge attraverso quella che ha la sua moglie nell'esperimento del Cairo. Molti, molti anni dopo, quasi alla fine della vita, il senso gli venne rivelato da un suo discepolo, Frateracca da Stample Jones, che decrittò cabalisticamente la parola chiave e gli dette il suo valore numerico cabalistico, che riportava appunto al concetto di unità per inverso. Quindi a qualsiasi livello ci si trovi, quando arriva un dono bisogna essere molto calmi, molto prudenti, perché addirittura può anticipare non solo l'inverarsi di un compito, di una missione, di un'attività personale, ma può annunciare con molto, molto anticipo la fine di un egregore, il ritirarsi di un campo di forza. La fine di un progetto che in apparenza è ancora tutto tranquillo, si sta manifestando, anzi sembra addirittura che le cose vadano tanto tanto bene e invece non è così. Può avvenire anche tre, quattro, cinque anni prima che l'evento specifico che è stato mostrato, perché questo in genere accompagna il dono anche a un certo tipo di visione, era stato pronosticato. Quando accade, wow, si rimane così. Però tutto era stato veramente concentrato in questo sigillo, in questo segno, in questa visione, in questo contatto metafisico, mai fisico. Quindi la valenza dei doni è ambigua, c'è sempre qualcosa che va compreso molto bene perché può essere molto pesante. Nell'abilità questo non c'è, nell'abilità si agisce secondo quella che è la propria capacità. Ripeto, il problema è agire in modo corretto, in modo etico, in modo saggio, quindi anche se si ha un'abilità si studia e ci cerca di capire a che cosa serve veramente. Non può essere usata per scopi personali a detrimento degli altri, non può essere usata per esibizione. Io vedo, sento, parlo, no. Perché automaticamente, siccome, pur essendo nella sfera della natura, questa abilità appartiene a una frequenza che non è quella ordinaria umana, si incorre in grossi problemi con le entità che presiedono quel tipo di abilità o quantomeno si va nella sfera dell'orgoglio, dell'autoreferenzialità e quindi praticamente in una sfera luciferica. c'è anche un po' il vezzo di voler essere riconosciuti, no? Dice, come? Io ho qui, so, fa questo, quello, quell'altro e nessuno mi se fila. Dovesti essere contento che nessuno ti si fila, perché altrimenti ti si potrebbe filare qualcuno che non ti piace per niente, perché le abilità, innalzando fortemente la vibrazione della persona che le ha, lo rendono estremamente visibili da occhi che non sempre sono benevoli e da lì possono essere tanti altri tipi di problemi. Quindi, avere chiara questa distinzione, sì, il dono supera l'abilità, ma può essere molto oneroso. L'abilità non è speciale, non è stranormale, non è paranormale, è una diversa modalità di agire nell'ambito della natura, intesa in senso greco, della Fisis, che comprende Bios e Zoe, no? Eccetera. Vi aiuta a vivere meglio se usata saggiamente, ma richiede molto equilibrio. Tutta la gente che magari sperimenta qualche piccolo frame, no? di queste abilità, comincia a fare i corsi, comincia ad andare in giro a fare conferenze, comincia a chiamare tutti i parenti, no? Per dire, guarda che so fare, no? Sì, non va bene. Perché comunque esibire un qualsiasi tipo di potere, come minimo ci porta nel range dell'invidia e della gelosia di tantissime persone. E non è buono per nulla questo. Chi ti credi di essere, ma quello che sta a dire, ma te pare, eccetera. Quindi si entra subito in una situazione conflittuale con gli ambienti che si hanno intorno, se si fa questo tipo di cose. Dall'altro lato c'è il pericolo della dispersione. Ne abbiamo già parlato un'altra volta di questa piaga, che è la dispersione di energia. Ci si sente portati a salvare il mondo, a fare il bene dell'umanità, di fare... non si sa che cosa. Il risultato è che si comincia a buttare fuori energia. Pensando che questa energia ci arriva dall'universo, ci sostiene, faremo udire i ciechi e vedere i sordi, e invece è una rota bucata che perde l'aria, un giorno arriva a terra, al cerchione, e lì sono danni grossi. Anche perché, ripeto, essendo parte del regno sottile della natura, si va a debito con le entità, con le forze del regno che noi andiamo a intaccare. Perché non siamo soli su questo universo, è inutile che la gente si arrabatta, e stiamo aprendo una posizione debitoria molto grossa, senza copertura, senza fido. Non è una buona idea. Altro problema è attirare vampiri, nel senso non quelli transilvani, ma persone che ce ne sono a bizzeffe, campano di rimessa degli altri. Quando trovano una persona adottata, in qualche modo, uam, ci esappiccicano sopra, tirando come matti. Io conosco persone che anche hanno una formazione profonda, seria, in esoterismo, che, avendo questo tipo di abilità, anche a un livello molto avanzato, non riescono a gestire nulla della propria vita privata. sono assaltati continuamente da qualcuno che ha sempre una tragedia, un dolore, un problema, ti si attaccano un'ora e mezza al telefono, non è un scherzo, molto chiaramente le persone a cui sto pensando adesso. Queste persone vengono in questo modo portate letteralmente via, come da un fiume in piena, da quello che è il loro cammino. Cioè diventa eccezionale fare la propria via, invece che la regola quotidiana, diventa nel quando posso riesco a fare le mie cose. Eh, se no ho questo che sta male, quello che non c'è al lavoro, quello che si deve sfogare, che c'è la depressione. Cioè ve ne tirano dietro a tonnellate, il risultato è arrivati sfiniti. La cosa pericolosa è che mentre chi viene da un trauma e ha avuto un risveglio di queste facoltà, per memoria animica potrebbe anche accorgersi di questo giochino e dire, ragazzi fermo un attimo, chi invece non ha avuto queste dinamiche, non viene dall'esperienza traumatica, più o meno le cose sono sempre andate scorrendo in un certo senso, queste facoltà sono quasi una compagnia, non se ne accorge. difficilmente gli viene provocato un trauma perché potrebbe risvegliarsi e scoprire l'inganno. Lo si lascia morire piano piano durante gli anni. Poi a un certo punto, quando provano a risvegliarsi a una ricerca più profonda, più autentica, dicono, oh ma che è successo, ma come, ma allora tutto quello che io sapevo fare non c'è più. Quando avete finito la benzina? Cioè se finite la benzina per strada con la macchina, non è che finisce la benzina, boom, la macchina si inchioda, no, si inghiozza, va vai, boom, 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 poi c'è un boom, si ferma. Non c'è bisogno che arriva un tir sui denti, no, per fortuna. Però va a finire sempre così perché comunque a livello sottile anche chi semplicemente usa delle abilità muove energie che non sono di questo piano e dall'altra parte ce ne sono tanti che sono d'appetito, come si direbbe da noi. Viceversa chi ha un dono se lo deve tenere molto caro ma deve studiare molto, molto bene la natura di questo dono se è in grado di gestirlo, in che misura e capire la cosa più difficile, il segno che si è ricevuto dove è diretto perché ha una sua escatologia quando viene da un piano in grado, una sua fine e magari noi conosciamo un certo tipo di vie, di mezzi, ma no, non è che possiamo sapere tutto. finché non troviamo esattamente qual era come direbbe Castanella l'intento che ha mosso una forza che ci ha trasmesso quel dono è bene non muoversi, essere molto prudenti perché essendo totale il dono, come ho detto, non è spendibile nel tempo come un'abilità, quando si mette in moto una forza di quel genere poi non si ferma e non si dirige in altra direzione che non quella per cui è stato diciamo resettato. Sono cose non diffusissime con situazioni che si possono sperimentare in tanti momenti, anche a volte in momenti parziali non sono comunissime però accadono. Quindi fly down per tutti chi ha ricevuto dei doni mediti profondamente sul senso del dono e sulla sua capacità chi ha ricevuto un'abilità una facoltà ricerchi sempre il massimo equilibrio dell'economia nell'impiegarla. Altro problema del dono che in questo è simile anche se non in anticorabilità l'idea di dover avere una missione sacrificale questa è una cosa specifica dei doni non ho i mezzi non ho i mezzi non ho le capacità ne ho solo una parte ma io mi spenderò totalmente per questa santa causa errore mortale errore mortale nel vero senso della parola perché le forze che presiedono ai doni hanno un'intensità una potenza e consentitemi l'espressione una vita su livello più alto estremamente più grande di quella di un uomo quindi fare la crociata dei pezzenti in terra santa non è assolutamente una pratica salutare bisogna sapere dosare le proprie energie se questo è un altro punto molto difficile dei doni se si trova una persona o delle persone capaci di portarle avanti meglio di noi va trasmesso e lì scatta un egone di quelli in paese state bullying come io il prediletto l'eletto il galletto che fa chicchi di chi sul grattacielo devo dare credito a chi è arrivato dopo di me ne sa meno di me non funziona così i doni come un cofanetto sigillato prevedono al loro interno anche una trasmissione anche nel caso in cui le persone a cui viene trasmesso ve lo dico per esperienze di decenni hanno l'unico compito di riportarlo in arcano nell'invisibile alla morte sono solo dei custodi pur tuttavia il dono va trasmesso questo nel campo iniziatico è una regola inalienabile insormontabile che non può essere elusa per nessuna ragione per esempio quindi chi è del mestiere che conosce veramente le leggi occulte sa che la prima cosa una volta sistemate decentemente le proprie questioni bisogna mettere in atto la ricerca di una successione altrimenti prima della morte ci sono delle modalità per rispedire questo dono nelle mani di chi l'ha dato è un po' come avete visto un film su Artù alla fine della battaglia tremenda tra le forze del bene e del male pur essendo culminata con la sconfitta del male di Mordred eccetera ma c'è anche la morte di Artù che infatti viene portato via dall'entità ad Avalon ma il suo compito è che Excalibur non cada in mani indegne anche a tua commessa errori non è riuscito in tante cose eccetera allora prende Excalibur e la fida al cavaliere che deve scagliare di nuovo la spada nel lago dove c'è la mano della dama del lago che la riprende mentre affonda quello non è un gioco del film quello è il modo in cui va gestito un dono lui era stato generato concepito allevato per estrarre quella spada nella roccia compiere le imprese saldare il regno la sua tradizione eccetera però alla fine alla fine non sarà lui a trovare il graal sarà un cavaliere degno no e la spada deve tornare nel lago questo poi in ambito iniziatico implica tutta una serie di giuramenti promesse particolari rispetto alle cose che si sono ricevute per esempio che non devono sopravvivere alla morte di chi le ha ricevute quindi è una dinamica molto potente molto precisa bisogna avere chiare queste distinzioni laddove ci si trovi nelle condizioni di sviluppare determinate facoltà oppure di ricevere un dono o di fare un percorso iniziatico in cui comunque viene affidata una determinata potenza operativa tutto deve tornare in equilibrio alla fine un vecchio proverbio russo quando compi il bene la gioia sia tua la gloria sia l'angelo è un'ottima regola per evitare di commettere errori che poi si pagano molto cari su questo campo va bene? un saluto a tutti vi ringraziamo di sostenerci e seguirci sempre tramite iscriviti abbonati e il pulsante grazie avete contribuito a rendere grande questa realtà